La meritocrazia entra nel PDL o c'era già? C'era già ma non veniva molto esaltata. Adesso con le parole di Alfano e del Presidente Berlusconi di portare una maggiore democrazia nella selezione della classe dirigente. Questa è ciò che veniva anche dai territori, una rivendicazione che è stata colta dal neosegretario Alfano e che ci dà la possibilità di radicare più il territorio. Ma poi mi è piaciuto anche il discorso che ha fatto in relazione al Sud che deve recuperare il suo ritardo e deve mettersi in linea con il resto del Paese. Quindi effettivamente il Sud può mettersi in linea, non è solo un problema di immondizia, è tutta di organizzazione generale. Occorre soprattutto una buona amministrazione dopo tanti anni di ritardo causati sempre dal governo della stessa parte politica. La sinistra oggi tocca al centro-destra nelle maggiori regioni del Sud offrire ai cittadini una possibilità di buon governo che stiamo già praticando. La ringraziamo.